I campioni d'Italia del San Marino affrontano il Big Mat Grosseto, gara 1 si apre nella parte bassa del primo inning con il fuoricampo lead off di Nathan El Batista, il sesto in stagione e quindicesimo in Italia sul lancio del partente del BSC Fokin Faria, poi dopo l'auto al volo di Angulo Federico Celli fa il bis, fuoricampo anche per lui, quarto stagionale, 37esimo in carriera nella massima serie per l'esterno. Del San Marino 2 a 0 a favore della squadra del Titano, poi quarto inning, prima e terza occupate, un out, Leo Ferrini con questa volata di sacrificio spinge a casa dalla terza base, Gabriellino 3 a 0, San Marino allunga nel quarto inning e poi chiude i conti nella sesta ripresa, corridori in seconda, due eliminati per Lorenzo Di Fabio che con questo singolo a sinistra porta a casa Eric Epifano con il punto del 4 a 0 sul lancio di Angel Marquez Coronado, finirà 4 a 0, Twitter combinato per Curtis e Hernandez, qua l'ultimo out, lo strike out ai danni di Francesco Cappuccini, 4 a 0, punteggio finale di gara 1, seconda partita, parte bassa della seconda ripresa, due out e basi vuote, Giovanni Rosales rispedisce il lancio di Mattia Sireus, Sireus all'esterno sinistro, un doppio per Sireus, un punto subito, 6 valide concesse e 4 strike out nella partita, il battitore successivo è Nathanel Battista che batte questo singolo interno sulla terza base, Giovanni Rosales avanza in terza e poi Oscar Angulo porta a casa quello che sarà l'unico punto della partita con questo singolo a destra, permettendo a Giovanni Rosales di segnare 1 a 0 San Marino in pedana, shutout, two hitter per Nicola Garbella, ultimo out quello di Niccolò Cinelli, volata in occo a destra, San Marino vince anche gara 2, partita tiratissima con un solo punto segnato, 1 a 0 il risultato della seconda gara, nella terza partita invece il punteggio è un po' più ampio a favore dei Titani, terzo inning, corridore in seconda un out, Nathanel Battista con questo singolo a sinistra, permette a Luca Puzzetti di segnare il punto dell'1 a 0 sul lancio di Jon Doba, partente del Big Mat Grosseto, tre battitori dopo tocca a Gabriel Lino, singola sinistra per lui, una delle due valide su tre turni di questa gara 3, segna Oscar Angulo il punto che vale il 2 a 0, poi nella quarta ripresa, corridore in prima un out, nel box di battuta c'è Eric Epifano, e c'è soprattutto l'avanzamento di Ericsson Leonora che prima ruba la terza base, poi su questo tiro fuori misura può andare fino a casa a segnare il punto del 3 a 0, in pedale c'è Eddie Garcia del Toro per il Big Mat, qui nel quinto inning il singolo di Gabriel Lino che porta a casa Oscar Angulo, finisce 5 a 0, altro chat out questa volta perché vedo, e Baez.